La Caritas, parrucchiale di Monteforte, nasce come tutte le diverse attività pastorali della nostra parrocchia, nasce per mettere al centro la famiglia, la famiglia come luogo di incontro, di condivisione, di trasmissione della fede e nel nostro caso anche di carità. Quello che ci proponiamo di fare è per l'appunto di essere delle famiglie che si mettono al fianco di altre famiglie per sostenere e aiutarle per quanto possibile nelle loro necessità. La nostra Caritas non ha accesso al banco alimentare, il banco alimentare è un ente, un'istituzione che distribuisce beni alimentari, beni di prima necessità a livello europeo. Ovviamente per alcune restrizioni è molto difficile accedere al banco alimentare, quindi noi abbiamo deciso di fare due raccolte all'anno, una viene fatta il sabato prima di Pasqua e una viene fatta ad ottobre. Vengono creati dei gruppi che partono e vanno a prendere le borse di genere alimentare che le famiglie hanno intenzione di donare, casa per casa. Il nostro gruppo Caritas è formato da circa 20 persone, siamo principalmente coppie di sposi, dopo che ad ogni coppia sono state affidate 3, 4, massimo 5 famiglie. Questo ci permette di avere con loro un rapporto proprio di condivisione che va oltre a chi porta una borsa della spesa e ci vediamo il mese prossimo. È proprio un creare famiglia con loro. Grazie. 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 Grazie.